Masterchef Italia, anticipazioni 9 febbraio, puntata ad tensioni Ospite lo chef pluristellato Giancarlo Perbellini Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli tornano questa sera su Skype per una nuova puntata di Masterchef Italia La classe degli aspiranti chef si sta restringendo, il traguardo si avvicina e le sfide diventano sempre più difficili Ospite lo chef pluristellato Giancarlo Perbellini Questa sera, giovedì 9 febbraio su Skype disponibile in streaming su Now, la top 10 di Masterchef sarà ricca di colpi di scena Già a partire da una sorprendente e tesissima Mystery Box che vedrà protagonista un ospite Lo chef imprenditore Giancarlo Perbellini, uno dei massimi rappresentanti della cucina d'eccellenza in Italia e nel mondo Con ben 10 locali nel nostro paese tra cui Casa Perbellini a Verona che vanta due stelle Michelin Per Bellini rimarrà poi anche per l'Invention Test, che vedrà protagonisti due suoi piatti di mare Sarà questa l'occasione per dimostrare ai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli E anche a se stessi di saper ragionare come dei veri e propri chef professionisti Il raffinato NH Collection City Life di Milano negli episodi del Coaching Show Sky original prodotto da Endemol Scine Italy in onda giovedì alle 21.15, su Sky 1 e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go farà da sfondo a una prova in esterno dai sapori internazionali che accoglierà 10 chef di fama mondiale provenienti dall'estero, i concorrenti Divisi nelle due brigate, si sfideranno su piatti da tutto il mondo in una sfida che sarà molto tecnica e serrata Per la brigata sconfitta come sempre ci sarà il pressure test, un'ultima chance dove giocare il tutto per tutto per ottenere la possibilità di rimanere ancora in gara all'interno delle cucine di Masterchef Italia Per la carte să rub rândurile, că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel, trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu, da ce că toate astea-s doar în capul meu? Si-mi zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai intarziat deja, arunca spate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-s poți imagina că lumea e a ta și-n plus, pot să sari sus, sus, sus Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, n-au avut hava, cât ai sus, cât ai sus, cât ai sus, pot eu să sari, acum că nu, nu, nu